Oggi avreste dovuto vedere il prossimo video che è il video del nuovo gameplay di The Sims 3 e quello arriverà perché comunque finché ce la faccio, finché ci riesco non voglio chiudere il canale arriverà probabilmente già fra un paio di giorni o tre, vediamo non vi prometto nulla, non vi prometto cose che rischio poi di non mantenere comunque sicuramente non voglio tenere questo video principale per tempi eccessivamente lunghi faccio questo video per sfogarmi faccio questo video perché sono schifato schifato fino all'inverosimile dell'indifferenza che riguarda una situazione in cui mi sono trovato mi trovo ancora e questa situazione riguarda il fatto che le persone che mi assistono vogliono fare diciamo così una sorta di viaggio di nozze posticipato a Palermo e io volevo approfittare di questa cosa per staccare un po' perché comunque sono una persona abbastanza sola nella vita reale io amici a Grosseto non ce ne ho amici a Grosseto io non ne ho se qualche volta mi vedete qualche vlog che ho fatto con degli amici allora o è molto indietro o sono persone che non escono più con me come nel caso di qualcuno oppure quelli un pochino più recenti diciamo quelli che riguardano un po' l'ultimo anno sono con i miei due amici di Roma che purtroppo per ragioni lavorative non riusciamo a vederci molto spesso quindi ho cominciato a chiedere ho cominciato a chiedere ospitalità asserendo che comunque mi sarei pagato il viaggio cosa che se risolverò questa situazione farò e ho trovato una indifferenza che mi ha ucciso e questa cosa mi fa schifo e posso sfogarla soltanto con le uniche persone che non sapevano ancora niente di questa cosa che siete voi ora potreste dirmi ma che ti frega ma vai a Palermo eccetera eccetera allora io non è che ho tutti questi a parte il fatto che non è che ho tutti questi grandi contatti da quelle parti poi io non stacco mai avrò diritto ad avere uno stacco mio? uno spazio mio? ce l'avrò il diritto? e allora ho chiesto a determinate persone e come al solito chi può non vuole e chi vuole non può fra le persone che vogliono sono stato contento di vedere che c'erano tutte persone disabili perché non sempre noi disabili siamo coesi e io ringrazio queste persone disabili che si sono offerte anche se poi purtroppo non abbiamo potuto realizzare nulla perché perché purtroppo le nostre difficoltà ci venivano contro ci venivano contro ora io sto aspettando ancora una risposta ad oggi che è il 6 luglio di una persona che forse è rimasta disponibile dopodiché però mi voglio mi voglio tenere informato per essere ospitato temporaneamente in una struttura privata cosa che comunque idea che mi dà lo sbocco però loro hanno il diritto di fare le loro vacanze e io non glielo posso impedire e di conseguenza se l'unica soluzione si profilerà questa struttura l'accetterò diversamente diversamente sarò costretto a partire e a mandare ancora una volta a puttane non me ne frega niente se c'è la parolaccia mi segnalino il video non me ne frega un cavolo la mia intimità da dovermi comportare da pacco postale a 28 anni per non impedire alle persone che mi assistono di fare una vacanza e io sono profondamente schifato da questa cosa se per caso se caso mai ci fosse qualcuno che fosse disposto a darmi ospitalità nel periodo che va più o meno dall'8 all'11 agosto me lo faccia sapere qui sotto io pago il viaggio pago il viaggio e sono disposto a dare anche un piccolo contributo spese nei limiti delle mie disponibilità perché io non voglio pesare su nessuno non voglio pesare su nessuno basta ho detto tutto quello che mi sentivo di dire grazie per chi guarderà questo video spero quanto meno nella vostra comprensione spero che nessuno mi vorrà attaccare soprattutto quel quel fake che mi ha detto che anche se sono un po' disabile ho un bel fisico anche se l'ho bloccato non dovrebbe più e presto ci vediamo col prossimo video perché non voglio far durare troppo questa negatività sul mio canale ma avevo bisogno di sfocarmi ciao